Ed eccoci con la nostra consueta analisi delle lunedì dove andiamo ad analizzare i mercati, in particolare Bitcoin, per capire quali livelli tenere sotto controllo nel breve termine, ma come posizionarci invece sul settimanale o comunque più nel lungo termine. Quindi passiamo direttamente al nostro grafico, questo è il primo exchange che utilizzo che è MEXC, un exchange che utilizzo perché ha delle commissioni bassissime per iniziare e perché poi è veramente semplice da utilizzare. Penso abbia tra l'altro le commissioni più basse del mercato, attualmente ulteriormente in promo, quindi se si vuole far trading o acquistare semplicemente Bitcoin, questo è il posto giusto perché per l'acquisto spot abbiamo commissioni dello 0%, quindi gratuito, niente fee, mentre se invece si va a far trading le commissioni sono 0% per il taker, quindi chi va a limite, 0,01% per il maker, quindi chi va a mercato. Comunque le più basse in assoluto attualmente, poi con tante promo, tante cosi, qua sotto ti lascio il link nella descrizione di questo video per registrarti gratis se ancora non l'hai fatto, non è obbligatorio neanche il KYC su questo exchange. Allora dove ci troviamo? Beh ci troviamo in questa situazione, qui siamo su un grafico giornaliero, come possiamo vedere abbiamo rotto anche se debolmente questo trend ribassista con minimi progressivamente decrescenti e massimi progressivamente decrescenti, anche se come possiamo vedere questa qui non la possiamo definire veramente una rottura perché la rottura sarebbe quella che ci interessa veramente da ottenere questo qui, quindi quello che io ho da un po' di tempo che definisco il livello effettivo di inversione. Quindi superati i 45 barra 47k, allora si può parlare effettivamente di una potenziale inversione perché andiamo a rompere questo trend ribassista. Nel breve periodo ci troviamo stagnanti all'interno di questo range e qua parliamo dal 17.3 ad oggi, quindi ci stiamo muovendo all'interno di questo range, c'è stato il pump di inizio anno, eccolo qua, e poi questa fase qui. Ora i due scenari possibili sono ovviamente un proseguo da un lato oppure un ritorno dall'altro. Io propendo molto di più per un calo, però ragazzi, adesso vi mostro anche il perché chiaramente, però nulla è mai detto. In particolare, lo ripeto, magari se è la prima volta che vedi questo video vai a vederti quelli passati perché grosso modo l'analisi è invariata, perché comunque a parte qualche excursus che sta facendo bitcoin verso l'alto e qualcuno verso il basso, comunque sia ci manteniamo sempre più o meno negli stessi range e quindi quello che io vedo qui è una potenziale testa spalla rovesciata per tornare a questo target qui, quindi quello dei 20k, ecco perché sono prevalentemente short su bitcoin attualmente, ma non escludo che si possa andare più in basso. E adesso ti mostro anche il perché. Passando invece ad un'analisi oraria su Bing X, altro exchange che utilizzo, ti lascio qua sotto il link in descrizione se vuoi testarlo, anche loro fanno un sacco di promo veramente di ogni tipo, anche loro non hanno il KWC obbligatorio. Se andiamo sul grafico orario vediamo appunto che siamo stagnanti all'interno, lo disegno meglio, all'interno di questo range, di questa supply demand zone. Quindi ci troviamo a muoverci all'interno di questa fase che, fammi dire, siamo intorno ai 325 e i 28k, 25k e come puoi vedere anche il volume profile ci dà grosso modo del movimento in queste aree, quindi qua sotto, un pochino di movimento qua in mezzo, qua nulla, qua vediamo ancora un po' di movimento in quest'area, qua nulla e poi il grosso movimento ritorna qua, perché infatti se andiamo a fare un zoom out, ecco se riusciamo mettiamo magari un 4 ore, che c'è più semplice fare il zoom out, ecco qui, se andiamo a fare uno zoom out vediamo che in realtà il range in cui ci muoviamo, che questo è il famoso testa a spalle che secondo me si sta andando a formare, è questo qui, quindi in questa area qua. Ci troviamo attualmente in una fase mediana del nostro range, come puoi vedere, quindi non escludo che ci possa essere per il breve periodo un pump fino a tornare a questo livello, quindi intorno ai 30k o anche 31k, o potenzialmente un flash crash verso i 25k e da qui bisogna vedere poi come regge questo supporto, viceversa come regge questa resistenza, quindi questo ragazzi ci troviamo in una situazione dove secondo me per chi non è esperto è meglio stare fuori dal mercato, quindi rimanere liquidi, rimanere liquidi e aspettare che ci sia un trend definito, quindi nel momento in cui vediamo che parte in su rompe, magari c'è il rimbalzino, allora qua forse si può iniziare a entrare, viceversa al contrario, in queste fasi ragazzi io preferisco sempre rimanere più liquido, quindi fermo, carte in mano, attendo, guardo e poi gioco, io preferisco muovermi in questo modo, però una cosa importante voglio andare invece a mostrarvi è un'analisi un pochino più particolare, qua siamo su TradingView, questo è il grafico TradingView Bitcoin dal 1 agosto 2017 fino ad oggi, ottobre 2023, prima di questo periodo Bitcoin si muoveva così, quindi diciamo che questa parte non è rilevante adesso per noi, quello che è rilevante è invece questa fase qui, e in questa fase qui se noi guardiamo un grafico tradizionale, questo è quello che sicuramente vedi anche dai miei colleghi, i movimenti sono questi qua, quindi li puoi vedere chiaramente, ci troviamo ripeto in questa fase ad un potenziale ribasso, comunque finché non superiamo questo livello qua, che come vedi è ancora non superato, finché non superiamo questo livello qua non possiamo ancora dire che effettivamente ci stiamo invertendo, contando che comunque questo è un primo livello che ci interessa, quello che dicevamo prima, i 45k superare per effettivamente parlare di un'inversione, ma se passiamo invece a una scala logaritmica, che è quella che utilizzo per capire un pochino più i movimenti, come stanno andando, perché qua vediamo gli alti e bassi, però se noi passiamo su una scala logaritmica, eccola qua, devo farla, non c'è auto qua, no, ingrandiamo, ecco qui, se noi passiamo a una scala logaritmica, vediamo che il discorso cambia, la scala logaritmica praticamente va a vedere le crescite e le decrescite in termini percentuali, in questo caso vediamo che comunque ci troviamo in un uptrend, questo è il movimento generale di bitcoin, come puoi vedere qui, questo è il movimento generale di bitcoin, quindi per chi è più long term, effettivamente in generale bitcoin si sta muovendo verso l'alto, cosa importante vediamo chiaramente i massimi, minimi e così via, cosa importante comunque da tenere sotto controllo, vado di nuovo a ridisegnarmi questo pezzo qui, cosa importante a tenere sotto controllo è questa fase, quindi andiamo a prendere questa parte qui e potenzialmente la possiamo riportare qui, abbiamo avuto un max, un bel pump, un ritorno, un altro pump, ritorno, come vediamo siamo arrivati a questo livello, cioè praticamente qua, da qua a qua c'è un bel movimento percentuale come si può vedere anche qui, qui avevamo bitcoin che era a 60, qua era 20.000 e qualcosa, qua invece aveva raggiunto il picco di 60.000, comunque sia qua ci troviamo, allora ecco qua, come puoi vedere ci troviamo con, senza contare il picco, vediamo proprio la chiusura della candela, qua siamo a 13.773, il picco successivo più basso 10.008 e poi il ritorno fino a 6.004, quindi da 13.000 a 6.004 c'era un dimezzamento praticamente. Tornando qui invece vediamo che bitcoin si è fatto il suo pump, qua è arrivato i famosi 60.000, la sua doppia onda, poi è ritornato giù esattamente come qua, ora in questa fase, puliamo un po' il grafico così è molto più evidente, ok, abbiamo detto doppio pump, calo, fino più o meno a 6.000, da 13.000 a 6.000 quindi più o meno sedimezzato, pump, pump, calo e qua ci troviamo a 17.000. contro i 60k più o meno che abbiamo raggiunto, quindi anche qui c'è una sorta di, è un pochino di più rispetto a un dimezzamento, quindi il movimento è stato molto più ampio. In questa fase non escluderei che ci possa essere un ritorno, come vediamo qua, su quest'area, rimanendo comunque sempre in profitto o comunque andando ad abbassarsi potenzialmente fino a questo livello, ma mantenendo comunque inalterata la struttura di crescita. Quindi io vedo questo e questi livelli ragazzi sono di nuovo i 20k, quindi come puoi vedere qua, tra i 20 e i 21k e più in basso i 15, i 14. In ogni caso potrebbe tranquillamente tornare a respirare fino a questo livello qui, quindi intorno ai 10k. Potrebbe comunque fare questo respiro e anche se lo facesse saremmo comunque all'interno del nostro range, quindi anche tornasse intorno ai 10k comunque ci manteniamo sopra la struttura dei minimi precedenti. Quindi potenzialmente potremmo andare incontro anche a questo tipo di movimento qui. E questo può aiutare, questo tipo di analisi logaritmica, può andare ad aiutare sui trend macro per capire le crescite percentuali, perché poi è quello che ci interessa a noi. Perché sì, ok, la price action per operare, ma ci può interessare molto di più invece vedere questo tipo di analisi. Intanto ti sto andando a settare il grafico, vorrei farti vedere una cosa, eccolo qua. Questo è sempre il nostro bitcoin, in questo caso vabbè contro euro, ma comunque poco cambia ragazzi. A partire dal 2012, quindi sono andato un pochino più indietro nel tempo, sempre scala logaritmica, vediamo qual è la crescita, vediamo qual è stato il movimento, vediamo che c'è impulso, ritracciamento, impulso, ritracciamento, impulso, ritracciamento. Quello che dicevamo poco fa, potremmo tranquillamente ritracciare maggiormente e rimanere comunque sul lungo termine più bullish. Quindi quello che io sto guardando qui è un'analisi molto più generale, ciclica di bitcoin. Ci stiamo preparando sicuramente ragazzi ad un altro ciclo di questo tipo, dove bitcoin potrebbe teoricamente mantenendo struttura massimi minimi, potrebbe tranquillamente arrivare magari, se non in questo ciclo, nel prossimo, quindi nei prossimi 4 anni, ma comunque come range di prezzo tra i 100 e i 200k. Questo è un'analisi, ripeto ragazzi, probabilistica rispetto ai movimenti passati. Vediamo anche che la crescita percentuale da qua a qua, o da qua a qua, che in realtà qua il movimento era più o meno intorno a questi prezzi, quindi da qua a qua è stata maggiore, da qua a qua è stata leggermente minore, da qua a qua è stata ancora minore, quindi da qua a qua io mi aspetterei massimo questo target qui, quindi un 165k, che comunque ragazzi non è male. Lateralizzazione e poi si riparte su un nuovo ciclo. Questi sono i cicli visti a livello percentuale su bitcoin, per quello che è la sua crescita, il suo movimento anzi nel tempo. Quindi questa è un pochino la situazione di bitcoin nel momento attuale. Abbiamo visto quale target di prezzo tenerci sotto controllo per lo short term, quindi nel breve periodo, abbiamo detto superare i 28-31k è fondamentale, per andare chiaramente long, viceversa per andare short un ritorno sotto i 25k, e si potrebbe entrare con uno short puntando i 20k. Sul medio-lungo termine possiamo rimanere comunque, sul lungo termine chiaramente siamo ancora bullish, tra virgolette, perché abbiamo visto proprio il trend di bitcoin che tende a salire, ma ciò non toglie che ci possano essere dei ritorni in termini percentuali abbastanza ammarcati, portando bitcoin dal prezzo attuale di nuovo intorno ai 10k. Potrebbe essere magari un flash, no? Penso che possa tornare tra i 12 e i 15k, anche se a livello probabilistico, secondo me, è molto più probabile, nel caso di un ritorno diciamo più in basso, che regga il supporto ai 20k, e che quindi possiamo magari fare un rimbalzino sui 20k, rimanere un pochino lì, muoverci leggermente sotto, leggermente sopra, per poi con l'anno dell'halving iniziare di nuovo il nostro movimento lentamente, e poi verso ottobre-novembre 2024 sparare su, come più o meno è sempre stato nel passato. Ti lascio qua sotto in descrizione il link per registrarti se vuoi a MXC e BingX per far trading, per acquistare cripto, per muoverti comunque in assoluta libertà nel mondo delle criptovalute. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se sei più short, più long su bitcoin, lascia like e iscriviti se ti fa piacere al mio canale. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ci vediamo nel prossimo video. Grazie.